buonasera benvenuti a tutti sono grazie alla bensi la dottoressa bensi che si occupa di medicina ayurvedica sono come al solito questa sera per presentarvi un altro argomento che riguarda la medicina ayurvedica ringrazio come sempre Anna Tamburini Torre e Enrico Ballantini che mi permettono di trasmettere queste informazioni grazie a tutto quello che vi sto raccontando da alcuni mesi ho anche visto qualcuna di voi che poi è riuscita a raggiungermi nelle varie parti d'Italia dove sono presente presente per le consulenze di medicina ayurvedica quindi anche stasera vorrei intrattenervi per diciamo approfondire ulteriormente alcuni aspetti importanti della medicina ayurvedica in particolar modo l'argomento di stasera riguarda le piante medicinali l'uso delle piante medicinali l'uso delle spezie sia nei preparati diciamo così che servono per migliorare il nostro stato di salute che l'uso delle spezie dal punto di vista alimentare intanto saluto appunto a tutti vedo che vi state collegando e mi fa piacere che nonostante il caldo e le vacanze ci sia ancora ci siano ancora persone che si interessano e si collegano intanto un piccolo riepilogo sulla medicina ayurvedica che ci permette poi di collegarci all'argomento di stasera perché la medicina ayurvedica non è una fitoterapia non è soltanto una fitoterapia l'uso delle piante dei minerali degli oligo elementi delle spezie sono sempre in funzione di quella che è la concezione di base della medicina ayurvedica cioè portare equilibrio ai tre dosha no chi ha già seguito le altre mie trasmissioni si ricorderà del concetto appunto dei dosha ciao sabrina la mia vicina di casa si ricorderà del fatto che i dosha sono gli elementi fondamentali da tenere in equilibrio per poter mantenere un buon livello di salute soprattutto per garantirci una prevenzione efficace e sincera no perché quando parliamo di prevenzione la medicina medicina moderna la medicina occidentale in realtà intendiamo individuare di con questo concetto l'individuazione precoce di una malattia nella ayurveda quando parliamo di prevenzione intendiamo l'individuazione a livello appunto di questi tre dosha di questi tre principi metabolici fondamentali l'individuazione di un inizio di squilibrio che non è ancora precipitato nella malattia quindi parliamo di prevenzione vera quando questi tre principi vi ricordo i nomi vata pitta e kafa vata composto dai due elementi fondamentali spazio aria pitta composto dai due elementi fondamentali fuoco e un pochino di acqua kafa composto dai due elementi fondamentali acqua e terra ognuno di questi tre incaricato di zone specifiche della nostra fisiologia del mantenimento dell'equilibrio di zone specifiche della nostra fisiologia maniera particolare vata si occupa del nostro organismo dall'ombelico in giù pitta della parte centrale e kafa della parte dal torace in su però ognuno di questi tre è presente in aree comunque anche diverse da queste che vi ho elencato e in particolar modo possiamo ritenere questi tre elementi un po' i pannelli di comando di tutti i nostri organi sistemi e in particolar modo vata del sistema nervoso centrale periferico pitta del sistema endocrino digestivo metabolico kafa del sistema immunitario dell'apparato respiratorio dell'apparato articolare quindi come vedete ci ritroviamo in quella che viene definito nella medicina moderna l'asse nervoso immuno endocrino e come ci dice la medicina moderna l'asse che a partire dal sistema nervoso centrale periferico determina lo stato di maggiore minore equilibrio anche degli altri due quindi della digestione degli ormoni e del sistema immunitario asse neuro immuno endocrino come diciamo anche comunemente e consideriamo anche così empiricamente ognuno di noi se stiamo bene mentalmente se siamo sereni se non siamo troppo stressati troppo agitati troppo preoccupati tutto il resto delle nostre funzioni organiche funziona va diciamo a portare avanti il proprio lavoro in maniera egregia in maniera equilibrata quindi la iurveda come abbiamo già detto in altre in altri collegamenti che cosa fa ci dà le tracce per poter mantenere questi tre sistemi nel maggior grado di equilibrio possibile perché quando si squilibriano a partire dallo squilibrio di vata che è quello più determinante no asse neuro immuno endocrino quindi il neuro viene per prima vata sistema nervoso centrale periferico vata sede principale il colon quindi il secondo cervello quando vata si squilibria perché siamo troppo di corsa siamo troppo agitati siamo sempre troppo in allerta cosa succede che anche gli altri due incominciano a muoversi nella direzione sbagliata perché solo vata che si può muovere no perché parte fatto di spazio aria quindi alle gambe per muoversi come si dice in termini sanscritti nella medicina iurvedica mentre pitta il fuoco si la fiamma può spostarsi no nel cammino quando vediamo la fiamma che va e che viene ma in realtà non è che salta da un ceppo all'altro solo complice l'aria può trasferirsi da un ceppo all'altro o sulla candela la fiamma si muove se c'è un po di aria un po di vento ma non salta giù dalla candela e va da altre parti così come caffa acqua e terra magari vediamo la brezza su un laghetto su uno stagno che fa muovere le onde di questo stagno ma non esce dal suo bacino quindi vata quando aumenta aumenta per prima cosa a livello del colon e incomincia a darci dei disturbi che possono essere di lieve intensità inizialmente ma poi aumentano e questo aumento che è secondo la yurveda il secondo stadio della malattia quindi primo stadio aumento secondo stadio aggravamento terzo stadio spostamento no prasara si dice in sanscrito quindi aumento aggravamento spostamento quindi vata dalla sua sede che il colon essendo leggero cosa farà incomincerà a muoversi indietro verso la colonna vertebrale incomincerà a muoversi lateralmente verso il fegato incomincerà a muoversi verso l'alto verso lo stomaco e in questo movimento incomincerà a trasportare con sé le qualità e le caratteristiche in questo caso di pitta a livello dello stomaco e di pitta a livello del fegato facendole aumentare a loro volta e come si dice in sanscrito stana sansraya stadiando in quella zona più debole quindi vata spostato nello stomaco incomincerà a dare tutta una serie di disturbi a livello dello stomaco ma non è lo stomaco che ha cominciato a star male è stato vata spostandosi dal colon a dare fastidio allo stomaco ecco per esempio i disturbi di gastrite così come i disturbi famosi elicobacter pylori che muovendosi insieme avata dalla zona in cui è più per lui è più congeniale cioè l'intestino si muove nello stomaco dando i problemi appunto di gastrite reflusso e gastrite con anche la presenza dell'inversione dall'intestino allo stomaco dell'elicobacter pylori quando ulteriormente questo movimento quindi stiamo parlando dei primi ancora quattro stadi della malattia quindi in questa prima fase la iurveda può intervenire egregiamente riuscendo a riportare in equilibrio vata nella sua sede rimanendo quindi pitta meno sollecitato nella sua sede ma se tutto questo non lo facciamo in maniera opportuna questo vata e pitta salgono ve l'ho già detto in altri collegamenti salgono anche verso la zona di caffa a parte respiratoria dando tutta una serie di problemi di indebolimento respiratorio di attacco asmatico di allergie di bronchiettasia a livello bronchiale di fenomeni polmonari che producono poi nel tempo cronicità a livello polmonare ma ulteriormente questo movimento può salire verso la testa sono segni nasali, occhi che diventano secchi, asciutti, infiammati ma la cosa più grave è il cervello che si infiamma il cervello che si infiamma sono quelle patologie degenerative ahimè in aumento nella nostra società che portano poi a quei disagi sia per la persona che li deve affrontare e li vive sia per la famiglia che deve assistere questa persona parlo di demenza, alzheimer, parkinson e degenerazioni nervose come anche i vari tipi di sclerosi quindi cosa vuol dire quindi che noi sentendo il polso vi ricordate l'ultimo collegamento abbiamo parlato in maniera più approfondita del fatto che attraverso l'analisi del polso con le tre dita indice medio anulare ritroviamo le qualità corrette sotto l'indice di Vata sotto il medio di Pitta sotto l'anulare di Kafa cosa vuol dire le qualità equilibrate? vuol dire che Vata essendo fatto di spazio e aria avrà quelle qualità congeniali allo spazio e all'aria quindi sarà leggero, mobile, instabile, secco, sarà ruvido avrà tutte quelle caratteristiche che riconosciamo nel vento nel vento che può appunto renderci anche più instabili, più nervosi può seccarci la pelle e così via Pitta avrà invece delle qualità più congeniali al fuoco il fuoco scalda, il fuoco rende la nostra pelle irritabile e delicata il fuoco è un pochino untuoso, il fuoco è penetrante quindi tutte queste qualità le troveremo sotto il dito medio che sente appunto le qualità di Pitta quindi Vata sentiremo sotto l'indice Pitta sotto il medio Kafa sotto l'anulare Kafa è acqua e terra cosa sentiremo? la morbidezza di qualche cosa che è fatto di una miscela di acqua e terra quindi una amalgama morbida, fredda ma anche umida a differenza di Vata che è un freddo secco il freddo del vento che asciuga troveremo delle qualità di maggiore stabilità, pesantezza anche troveremo delle qualità di maggiore morbidezza quindi sono esattamente le qualità opposte di Vata quando queste qualità nel polso le troviamo alterate in maniera sapiente chi studia io sono 30 anni che studio la Yurveda e utilizzo l'analisi del polso per aiutare le persone a risolvere andando a fondo nella origine delle loro problematiche proprio grazie al polso le persone appunto vengono poi indirizzate da me ad utilizzare determinate routine quotidiane di cui abbiamo già spesso parlato ma anche determinate preparazioni a base di piante medicinali che non saranno semplicemente come i fitoterapici dei sostituti dei farmaci chimici per determinati sintomi ma i preparati a base di piante medicinali ayurvediche a base di minerali a base di spezie a base di oligoelementi a base anche di prodotti animali nel senso del burro chiarificato questi preparati sono miscele sapienti di questi componenti che vanno a interagire ad agire, a riequilibrare i tre dosha vata, pitta e kafa quindi queste piante, questi minerali questi oligoelementi queste spezie vengono analizzate non come facciamo nella medicina moderna e nella botanica moderna in base ai loro principi chimici possiamo anche farlo per carità ma la veridicità la profondità l'accuratezza e l'efficacia della medicina ayurvedica è collegata con l'analisi che questi antichi scienziati vedici parliamo vi ricordo la medicina ayurvedica ha una datazione minima di 5.000 anni ma ancora prima di questi 5.000 anni quindi circa 3.000 anni prima di Cristo la stesura di questi testi in maniera scritta ma prima di allora il fatto che questa medicina venisse tramandata oralmente da questi saggi da questi sapienti da questi medici che facevano questo lavoro proprio nell'ambito della tradizione della propria famiglia quindi ancora oggi in India i vaidia i medici ayurvedici così è il nome del medico ayurvedico in sanscrito si formano prima che laurearsi poi nei 5 anni di università si formano fin da bambini nell'ambito delle famiglie di vaidia dove sono nati seguendo le istruzioni della nonna del nonno del papà della mamma della zia a seconda di qual è il componente della famiglia che ha ricevuto a sua volta dalle generazioni precedenti queste informazioni e infatti questa disciplina soprattutto per quello che riguarda l'analisi del polso viene tramandata oralmente per quanto poi riguarda tutto lo studio dei testi classici ayurvedici charaka sammita sushutta sammita vagabat sammita sono tanti diciamo i 6 classici più importanti sono quelli da cui derivano la maggior parte delle informazioni poi ci sono dei testi più recenti elaborati anche in tempi relativamente più vicini a noi periodo medievale della medicina ayurvedica in cui si sono diciamo accumulate altre informazioni però i 6 testi classici ayurvedici contengono tutto quello di cui vi ho parlato in questi nostri appuntamenti e contengono anche l'analisi e diciamo l'utilizzo delle piante medicinali c'è ci sono due capitoli molto interessanti della medicina ayurvedica che essendo una medicina strutturata è suddivisa come la nostra medicina medicina generale chirurgia chirurgia della zona sopraclavicolare otorino laringoiatria psicologia e psichiatria pediatria ginecologia tossicologia e poi ci sono due branche molto importanti che riguardano le piante che riguardano due gruppi particolari di piante rasayana una è la scienza dei rasayana e l'altra la scienza dei vajikarana i rasayana noi in termini moderni li chiameremmo i ringiovanenti bella questo concetto che non è un concetto semplicemente estetico solamente estetico e frivolo tra virgolette ma ringiovanire gli organi del corpo è molto importante per affrontare meglio l'invecchiamento perché è chiaro che con l'andare del tempo i nostri organi si usurano sempre di più ma esistono appunto queste piante medicinali molto specifiche proprio per ridurre che cosa che cosa fa invecchiare i nostri organi i nostri sistemi la nostra pelle e così via i processi ossidativi noi viviamo per necessità di cose in presenza di ossigeno l'ossigeno ossida pensate alla ringhiera del vostro balcone dopo un po' la dovete ridipingere perché l'ossigeno l'atmosfera di ossigeno consuma ossida rovina quel materiale e lo stesso avviene a livello del nostro organismo ci sono diversi tipi di sostanze ossidanti però quello più ossidante di tutti è l'ossigeno quindi siccome noi dobbiamo vivere per forza in atmosfera di ossigeno dobbiamo l'essere umano ha da sempre elaborato la conoscenza di quelli che appunto chiamiamo gli antiossidanti ma mentre nella medicina ayurvedica queste sostanze queste piante sono completamente naturali senza ovviamente effetti collaterali quello che si è tentato di fare la medicina moderna cioè l'elaborazione di composti chimici con le caratteristiche di essere antiossidanti si è visto che non sono per niente efficaci rispetto alle piante medicinali e addirittura come al solito possono avere degli effetti collaterali quindi tutt'oggi sapete ormai c'è una gamma di integratori su vasta scala che sicuramente hanno degli ottimi effetti però si sta scoprendo che a livello del microbiota intestinale sapete quella parte di batteri presenti a livello del nostro intestino e come sapete sono molto più numerosi delle nostre cellule quindi è un po' come se noi portassimo a spasso dentro di noi dei personaggi che in qualche maniera sono anche loro che orientano i nostri modi di essere i nostri stati d'animo e si è visto che troppi integratori disturbano il microbiota intestinale cosa che non avviene con appunto queste sostanze queste piante rasayana di cui vi sto incominciando a parlare quindi grande capitolo della medicina ayurvedica e rasayana quindi ringiovanenti antiossidanti rigeneranti tonici in questo periodo di covid e long post covid questi prodotti hanno dato ve lo dico per esperienza per averli consigliati a tantissime persone hanno dato dei risultati incredibili adesso poi vi nomirò le piante vi dirò anche vi parlerò di qualcuno di questi prodotti tutti i prodotti che trovate comodamente nelle farmacie parafarmacie erboristerie ben fornite in tutta Italia si trovano assolutamente l'altra categoria ivagicarana sono piante che hanno un'attività direi potremmo dire sull'apparato riproduttivo sono quelli che possiamo definire afrodisiaci ma afrodisiaco nel senso più ampio completo e profondo del termine cioè piante che migliorano che cosa la cosa più importante che dobbiamo fare su questo pianeta riprodurci mantenere la nostra specie perché se non ci riproduciamo ci esauriamo e scompariamo come dinosauri quindi ivagicarana sono piante che migliorano la fertilità e come sapete di questi tempi questo discorso è di grande attualità perché purtroppo sta aumentando in maniera veramente esponenziale la difficoltà ad avere figli sia da parte maschile che da parte femminile quindi queste piante questi minerali questi oligoelementi queste spezie vengono a darci una grande mano in questo periodo di grande difficoltà spesso le piante rasayana sono anche ivagicarana poi ve le nomino e le commentiamo però voglio fare un passo indietro la yurveda come vi sto insistendo da vari incontri che abbiamo fatto non è una medicina sintomatica quindi non è che dico ah non riesco ad avere figli ma hanno detto che anatomicamente fisiologicamente va tutto bene quindi non ci sono spiegazioni diciamo che giustifichino il fatto che io non riesco ad avere figli morale non riesco ad avere figli allora prendo il preparato ayurvedico no non funziona così sarebbe una contraddizione enorme rispetto a quello che vi ho spiegato in tutti gli incontri che abbiamo fatto quale potrà essere l'elemento no ci arrivate sicuramente anche voi dopo tutto quello che abbiamo detto anche questa sera e quello che abbiamo detto negli incontri precedenti tra Vata Pitecafa quale sarà quello più destabilizzante la zona riproduttiva vi ricordo che Vata ha la sede principale nel colon ma che il colon ha dei rapporti interpersonali profondissimi con gli organi adiacenti ovvero apparato riproduttivo sia maschile che femminile vie urinarie sia maschili che ovviamente femminili quindi quando qualcosa non va a livello del colon sede principale di Vata come vi ricordate quel qualcosa incomincerà a non andare bene piano piano anche negli organi adiacenti quando vi parlo di prevenzione e ve lo posso dire testimoniare con tutta l'esperienza di questi trent'anni e il vedere almeno cinquanta persone alla settimana sentire a queste cinquanta persone il polso quando io sento il polso alle persone diciamo che siamo generosi 98 persone su 100 facciamo 98 e mezzo hanno un forte squilibrio di Vata ma quando parlo di persone parlo di adulti e di bambini quando quindi noi parliamo di prevenzione alla Ayurveda ci dovremmo avvicinare fiduciosamente fin da piccoli ovviamente portati dai nostri genitori stiamo sempre di più diffondendo questa informazione sulla Ayurveda vedete quanto grazie anche Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre questi incontri vi dischiudono un po' un panorama che prima non conoscevate molto importante diffondere questa conoscenza io giro tutta l'Italia chi mi conosce appunto ha potuto incontrarmi anche recentemente ho visto una signora a Ponsacco Ponsacco in provincia di Pisa ero lì un mesetto fa ero in questa parafarmacia erboristeria a fare delle consulenze mi ha visto mi ha detto ah ma lei è quella che fa le trasmissioni di Ayurveda su Focus 3.0 bene adesso non ho tempo ma la prossima volta voglio venire da lei quindi vedete è molto bello no poter non essere riconosciuti così a fine di se stesso ma essere riconosciuti perché portatrici di un messaggio nuovo anche se antichissimo quindi se fin da piccoli noi mettiamo a posto l'intestino ma intestino come sede di vata ricordatevi che non è l'intestino e il microbiota il problema perché adesso si parla tanto di disbiosi giustamente ma la disbiosi e l'intestino che non funziona dipendono da uno squilibrio di vata allora le piante medicinali che useremo per i preparati che andranno a riequilibrare l'apparato genito urinario avranno sicuramente un occhio d'attenzione prima di tutto su vata però ripeto il concetto non possiamo pretendere di arrivare magari a 30 anni 35 anni dopo tanti tentativi di vario genere natura e pretendere che in tre mesi il preparato ayurvedico anche adatto bello e ben miscelato eccetera faccia il miracolo se noi non facciamo nient'altro cioè se noi non curiamo il nostro sistema nervoso dandogli spazio attraverso per esempio la pratica del yoga e della meditazione trascendentale non diamo spazio alla nostra digestione facendo il pasto principale a pranzo e la cena leggera non diamo spazio all'abitudine dell'acqua calda bollita per pulire i nostri canali non diamo spazio al ghi burro chiarificato per diciamo rendere più digeribili i cibi che cuoceremo nel ghi capite dobbiamo fare una adesione un po' a 360 gradi nel cammino ayurvedico per arrivare a determinati risultati comunque anche dal punto di vista così della procreazione in questi anni ho avuto tante belle soddisfazioni tanti bei risultati e visto che stiamo parlando dei vagicarana poi torneremo a i rasayana quindi gli antiossidanti rivitalizzanti eccetera piante vagicarana e anche rasayana due piante che avrete magari sentito nominare perché adesso purtroppo vanno di moda questi preparati fitoterapici a base di quell'unica pianta non funziona così l'ayurveda l'ayurveda le piante vengono miscelate tra di loro perché devono agire su vata pitta e kafa quindi alcune piante agiscono solo su vata altre piante agiscono su vata e pitta altre piante agiscono su vata e kafa capite quindi una pianta unica come si fa nella fitoterapia nell'ayurveda non funziona quindi usare asvaganda e shatavari come piante singole non funziona perché asvaganda o anche vitamnia somnifera il suo nome botanico latino è una pianta interessantissima sia antiossidante quindi rasaiana che adattogena quindi ottima per il sistema nervoso che vagicarana quindi ottima per l'apparato riproduttivo però asvaganda che vuol dire odore dell'urina del cavallo in sanscrito perché è ritenuta la pianta per antonomasia che dà grande energia all'apparato riproduttivo maschile lo stallone così l'immagine dello stallone ci rimanda alla potenza sessuale maschile sciatavari invece che vuol dire 100 mariti o anche 100 radici perché è una pianta è l'asparagus racemosus quindi è un asparago come il nostro asparago ma sembra più un alberello non è l'asparago piccolino come siamo abituati a conoscere noi quindi l'asparagus racemosus o sciatavari quindi 100 mariti e l'afrodisiaco per eccellenza a livello femminile quindi sono due ottime piante che però comunemente nei preparati aiurvedici vengono usati insieme in modo che siccome asvaganda pacifica vata e caffa e quindi non pacifica pitta non pacificando pitta una persona che prende solo asvaganda per lunghi periodi può ritrovarsi poi con un grado di infiammazione perché appunto non pacificando pitta pitta aumenterà combinato con sciatavari siccome sciatavari invece pacifica vata e pitta pacifica vuol dire equilibria vata e pitta avremo un composto ottimo per pacificare arrivata pitta e caffa e quindi per riportare alla normalità sistema nervoso centrale periferico apparato digerente apparato ormonale apparato immunitario e struttura quindi questa logica delle preparate aiurvedici viene poi ancora da più lontano nel senso che voi direte ma perché non possiamo usare le nostre piante medicinali europee certo noi stiamo facendo anche degli studi comparati tra le piante tradizionali ayurvediche indiane che vengono dall'Himalaya vengono dalle zone del Rajasthan quindi non vengono dagli orti vicino alle superstrade di Delhi o di Calcutta capite perché dobbiamo saperle queste cose parlo di quella che chiamiamo Ayurveda Marishi che è stata definita la miglior Ayurveda ricavata da tutte le informazioni tradizionali grazie alle famiglie dei medici tradizionali ayurvedici quindi la Ayurveda Marishi che troviamo farmacia parafarmacia erboristeria ha questa garanzia di non contenere pesticidi metalli pesanti che invece troviamo in altri preparati che non hanno sicuramente questa accortezza di coltivazione biologica raccolta secondo le metodiche tradizionali antiche perché anche la raccolta di una foglia è un atto tra virgolette di crudeltà verso la pianta che allora deve essere approcciata con delle recitazioni di mantra delle recitazioni tradizionali perché la pianta si sacrifichi diciamo in maniera meno traumatica al fatto che quella pianta sarà destinata a risolvere dei problemi di qualche essere umano quindi coltivazione biologica coltivazione secondo le direzioni del sole della luna e degli altri pianeti raccolta in questo modo purificazione quindi pulizia di ogni pianta a seconda di quale pianta si tratti combinazione delle piante tra di loro a seconda delle antiche ricettazioni classiche perché non è che io metto insieme qualsiasi pianta e ottengo una cosa meravigliosa questo si sa anche nella nostra botanica e si sa soprattutto ahimè ma se ne sa molto poco nella medicina allopatica si è visto che la combinazione di più farmaci dà dei risultati positivi o negativi ma non predicibili da quello che conosciamo dai singoli farmaci che noi combiniamo capite quindi ecco perché la pericolosità di tutte queste sovrapposizioni di medicine come avviene per tantissime persone nei preparati ayurvedici classici ripeto parliamo di ayurveda marisci per avere una garanzia di qualità abbiamo la sommatoria delle piante che stanno bene tra di loro e che anzi riducono quegli effetti collaterali magari negativi dell'altra pianta per esempio la liquirizia no se ne parla tanto ah no c'è la liquirizia non posso prendere perché mi fa alzare la pressione non è vero dipende la liquirizia con quali altre piante è combinata perché perché la liquirizia ha cioè equilibria vata e pitta ma non equilibria cafa cafa è acqua e terra vi ricordate no quindi equilibrando solo vata e pitta se noi assumiamo liquirizia in grandi quantità perché non basta una caramellina di liquirizia o una piccola quantità di liquirizia in un preparato se ne assumiamo una grossa quantità siccome non equilibria cafa cafa aumenterà cafa e acqua e terra creerà edema nel nostro corpo e creerà un ristagno a livello circolatorio e quindi un rialzo pressorio quindi nei preparati ayurvedici la liquirizia che è un ottimo tonico è un ottimo prodotto per la digestione è un'ottima pianta per l'apparato respiratorio la liquirizia combinata come nei preparati ayurvedici con altre piante si può dare anche alla persona ipertesa quindi capite che stiamo parlando di un mondo precisissimo quando parliamo di ayurveda quindi abbiamo detto aswagandha shatavari sono piante sia rasayana quindi rivitalizzanti adattogene che vagicarana quindi anche rivitalizzanti l'apparato riproduttivo sia maschile che femminile più maschile aswagandha più femminile shatavari tra invece i rasayana troviamo 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 per esempio l'emblica officinalis l'emblica officinalis è un frutto presente in tantissimi preparati ayurvedici che trovate poi come vi ho detto prima comodamente farmacia parafarmacie e erboristerie l'emblica officinalis anche detta amla è un frutto è un frutto che ha delle caratteristiche di contenere delle sostanze analizzate chimicamente delle sostanze chimiche molto simili alla vitamina C ma molto più stabili della vitamina C la vitamina C ad alti dosaggi diventa un ossidante e quindi ci fa l'effetto opposto di quello che vorremmo da un prodotto antiossidante quindi l'emblica officinalis ha questo buon effetto su tutti e tre i dosha perché ha cinque sapori su sei no nella analisi delle piante medicinali come vi dicevo prima nell'antichità né c'era la modalità per farlo ma neanche interessava esaminare se c'erano bioflavonoidi se c'erano terpeni se c'erano lattoni se c'erano se c'era più glucosio capite ma venivano esaminate queste piante analizzando le loro qualità è secca o è più morbida è untuosa o è asciutta è calda o è fredda e venivano analizzate attraverso il gusto i sapori quindi i sei sapori fondamentali usati dalla medicina ayurvedica anche nell'analisi dei cibi che dobbiamo selezionare per il nostro pasto nell'analisi delle piante medicinali è importantissimo quindi dolce acido salato piccante amaro astringente l'embrico ficinalis ha cinque sapori su sei come anche l'aglio sia l'embrico ficinalis che l'aglio l'aglio è una spezia ma anche una pianta medicinale non hanno appunto il gusto salato quindi vuol dire che comunque vanno bene per equilibrare sia vata che pitta che caffa quindi sono piante che ritroviamo impreparati ayurvedici parlo in particolar modo dell'embrico ficinalis come vi do due o tre nominativi che vi possono essere utili proprio come tonici dicevamo il long covid come sostenere le persone che fanno fatica a riprendersi magari anche dopo 15-20 giorni c'è ancora questa stanchezza questa fiacchezza allora c'è questo prodotto si chiama Amrita 4 è una marmellata di piante medicinali di cui la pianta principale è proprio l'embrico ficinalis poi ci sono spezie c'è cannella c'è zenzero c'è cardamomo c'è coriandolo perché le spezie aiutano la digestione e aiutano l'assimilazione delle piante medicinali quindi è molto diverso assumere un preparato ayurvedico rispetto a un integratore di una singola sostanza come adesso tanto ci sono in commercio però come dicevo prima non la vieta di prenderli però bisogna stare attenti a non assumere troppi integratori perché disturbano il microbiota intestinale Amrita 4 è una miscela di 30-35 piante e spezie che ha questo effetto tonico rigenerante esiste anche la formula Amrita 4S vuol dire senza zucchero per chi ha problemi di glicemia e quindi preferisce non assumere troppi zuccheri che è appunto incompresse la pasta è una specie di marmellata perché è presente in questa pasta il ghee il burro chiarificato che amalgama e cuoce e rende più biodisponibili le piante combinate nella tradizione ayurvedica c'è un altro preparato altri due preparati simili alla Amrita 4 sempre come tonici il vigor map come dice il nome vigore è anche molto buono visto il discorso del covid per far riprendere l'apparato respiratorio vigor map la pianta principale è l'uva la vitis vinifera l'uva ha delle caratteristiche di nutrimento e di riequilibrio dell'apparato respiratorio incredibile non a caso l'uva sono degli acini avete in mente il grappolo d'uva e i nostri polmoni ogni alveolo è una specie di acino quindi per similitudine questo vigor map o per dare vigore è ottimo per i postumi del covid a livello dell'apparato respiratorio e il terzo prodotto sempre rinvigorente ma anche rinfrescante quindi toglie tutte quelle situazioni di infiammazione anche queste molto presenti con il covid si chiama stenomap lo stenomap va bene anche per chi ha reflusso gastroesofageo per chi ha infiammazioni a livello intestinale e chi si trascina queste infiammazioni anche come vi dicevo prima verso l'alto verso anche addirittura il sistema nervoso centrale poi esistono nell'ambito dei rasayana delle piante che si chiamano media rasayana media vuol dire mente media sono quindi delle piante che rinvigoriscono il nostro sistema nervoso ne abbiamo molto bisogno no? tante persone hanno deficit gravi ma anche più leggeri no? di così andando avanti con gli anni diventa anche abbastanza come dire normale però non deve essere troppo invasivo perché se no rischiamo appunto delle degenerazioni più gravi quindi anche per gli studenti no? questi preparati si usano infatti uno si chiama proprio student rasayana io lo consiglio ai ragazzi che hanno da sottoporsi alla rush finale dell'esame ma anche alle persone che a una certa età incominciano a dimenticare delle cose contengono queste piante media rasayana una si chiama bakopa monieri o brami in sanscrito anche questa è diventata un po' famosa e quindi si vendono queste capsuline solo di brami però come vi ho già detto prendere un prodotto solo di una pianta non è così efficace come prendere lo student rasayana dove oltre al brami c'è asvaganda shatavari e c'è un'altra pianta molto interessante la che conosciamo soprattutto per il microcircolo che è la centella asiatica o manduca parmi quindi capite questa miscela più completa permette a queste piante di arrivare bene al sistema nervoso centrale periferico ci sono dei prodotti ancora più efficaci per il sistema nervoso centrale che sono piante cotte nel ghi perché il ghi supera la barriera ematoencefalica quella barriera che il cervello crea rispetto a certe sostanze che possono essere dannose per il cervello quindi è una barriera utile per il cervello però quando dobbiamo intervenire sul cervello già da tempo nella medicina moderna non si riesce a capire come fare perché queste sostanze che si usano per queste malattie degenerative di cui non si sa ancora bene l'efficacia e quali sono anzi si sanno quali sono gli effetti collaterali per esempio per chi ha problemi di glaucoma questi prodotti chimici non vanno bene quindi sono tutti in fase sperimentale la iurveda la sperimentazione esiste da 3.000 a 5.000 anni quindi capite che possiamo stare tranquillissimi nel prendere questi preparati quindi bacopa monieri centella asiatica asvaganda shatavari anche questa nardostacci sanjata manzi viene chiamata anche anidra cioè nidra il sonno anidra vuol dire che rigenera le persone che hanno problemi di sonno anidra vuol dire una persona che non dorme quindi questi preparati oltre ad essere adattogeni quindi a far riprendere tono il nostro cervello il nostro sistema nervoso aiutano anche il cervello a riequilibrare la sua iperattività e quindi favoriscono un sonno fisiologico ma non ci addormentano durante il giorno viene usata in ayurveda anche la valeriana officinalis e la valeriana vallicchi però in percentuali più ridotte rispetto a queste piante di cui vi sto parlando perché la valeriana officinalis e la valeriana vallicchi che è una specie diversa rispetto alla officinalis hanno diciamo un po' quella un effetto un po' di intontimento se prendiamo la valeriana la sera magari mattino dopo ci svegliamo un pochino intontiti non con i preparati ayurvedici quindi rasayana media rajayana vajikarana poi esistono tutta un'altra serie di piante come vi dicevo di spezie che sono a cavallo tra l'essere delle piante aromatiche alimentari a delle piante medicinali l'aglio lo conosciamo benissimo ricordiamoci sempre di tagliare la fettina a metà e di togliere quel germoglio che è velenoso quindi è tossico e quindi usiamolo nell'alimentazione in questo modo o lo troviamo certi preparati ayurvedici anche preparati che vanno bene per le articolazioni perché oltre che per la circolazione e la pressione l'aglio va bene anche per le articolazioni poi ci sono minerali e oligo elementi nei vari preparati perché molte piante usate contengono naturalmente selenio zinco e poi vengono usati minerali come la perla e le conchiglie che sono delle ottime fonti di carbonato di calcio naturale che quindi non ha l'inconveniente di darci quell'accumulo di calcio in zone del nostro organismo dove non dovrebbe essere il calcio accumulato ecco quindi quello che è sempre la maniera migliore è prendere i consigli come vi dicevo un po' più completi che il consulente ayurvedico come posso essere io da tanti anni sa dare e abbinare i preparati giusti però Amrita 4 VigorMap Stenomap potete prenderlo tranquillamente senza problemi al posto di qualsiasi altro tonico di valore e efficacia sicuramente inferiore con l'analisi del polso possiamo mirare poi a dei prodotti per esempio adattogeni per il sistema nervoso come RelaxMap Serenimap che contengono soprattutto quelle piante adattogene che vi ho citato prima la Bacopa Monieri la Centella Asiatica la Svaganda Shatabari quindi queste miscele diventano di supporto per il sistema nervoso quindi non sono sedativi ma adattogeni e ci aiutano a dominare meglio l'eccesso di Vata ecco io con questo guardo adesso un po' se c'è qualche domanda specifica allora vediamo c'è una sulla Bacopa ma non la trovo più comunque avete capito il senso di questi preparati è un po' come il senso di una grande orchestra una grande orchestra è formata da più elementi ognuno di questo elemento ha la sua tonalità ma ascoltare quella tonalità di quella violino di quella contrabbasso o quello che può essere lo strumento da sola rispetto ad ascoltarlo amalgamato con tutti gli altri strumenti è di una piacevolezza notevolmente diversa quindi lo stesso vale per i prodotti ayurvedici come risultato della sapiente amalgama di tutte queste piante allora a luglio sarò ancora a Torino la parafarmacia Quintessenza sono ad Asti dopo domani alla erboristeria al giardino della vita sono domani qui vicino a me al Lago Maggiore alla farmacia a Gazzone a Bogogno sarò a Cuneo il 20 21 di luglio sarò poi dalle parti di Domodossola a Mocogna intorno al 15 adesso non ricordo bene la data sarò a Torre Pellice il 16 luglio sarò a a Milano il 12 luglio alla farmacia remotti vi do il mio numero 335 561 2 115 ripeto 335 561 2 115 per per appunto se volete chiamarmi ecco Angela appunto dici usi la bacopa però la bacopa usata da sola è molto meno efficace che non usata nello studio Rasaiana o nel Budimap o nella Amrita 5 questi preparati sono miscele di piante e quindi mentre il prodotto monocomponente dopo 1-2 mesi è meglio sospenderlo i prodotti ayurvedici si può andare avanti ad usarli per mesi 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 Puglia per adesso Angela no non vengo magari in autunno chi lo sa al momento no in Puglia c'è la dottoressa Caterina Auriglia di Bari che è un medico ayurvedico e e e quindi niente ecco quindi vi ho detto più o meno nel mese di luglio ancora dove sarò sto pensando ah poi sarò in Liguria dal 25 anzi già dal 23 sono 22-23 sono tra Nervi Genova poi sono alla farmacia Novella a Rapallo quindi insomma mi muovo anche in Liguria dunque il periodo di caldo una cosa che vi consiglio di prepararvi il lassi ricordate il lassi yogurt diluito con acqua mettete in un bicchiere un due tre dita di yogurt di buona qualità biologico di mucca o di capra lo allungate con quattro volte di acqua mettete una fogliolina di menta e o un pizzico di sale o un pizzico di zucchero di canna non il miele perché il miele è astringente altrettanto quanto il lassi e bevete il lassi lungo la giornata frutta va bene frutta fresca poca carne assolutamente sì ricordatevi la cena assolutamente leggera leggerissima un passato di verdura consumato tiepido una vellutata non la frutta fresca alla sera perché la frutta dopo le 18 fermenta quindi fate appunto della verdura cotta in padella con il ghi la consumate appunto tiepida oppure fate un'insalata di riso però dove mettete olive mettete zucchine cotte mettete non so un po' di mais non mettete tonno formaggio e così via mettete un po' di olio d'oliva va bene allora io ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno partecipato ringrazio Enrico Ballantini Anna Tamburini Torre e grazie alla prossima non ci vediamo ad agosto ci vediamo poi a settembre a Perugia sono appena stata Luciana tornerò a fine ottobre a Perugia in Toscana ci sarò dunque i primi di ottobre tra Pisa Livorno a Brescia vengo ai primi di settembre al negozio Ojas in corso palestro da Gloria Catani potete prendere appuntamento da lei Ojas è un bellissimo negozio di prodotti ayurvedici prodotti per lo yoga tutti i tappetini le varie cose che servono per lo yoga bene vi saluto grazie a tutte e a tutti però a Perugia vengo ancora Luciana vado a estetica bios di Cinzia Zicchieri buone vacanze ci vediamo a settembre buona serata